L'Atalanta vince per 5-0 a Verona contro l'Ellas e grazie al risultato della sera sull'Inter riaggancia il sesto posto a pari merito appunto con i Liguri. Commentare le partite in cui questi risultati sono così ampi non è mai semplice anche perché sarebbe piuttosto banale dire che abbiamo dominato che non sarebbe nemmeno una bugia. Però cercando insomma di dire qualcosa di più rispetto a quello che tutti avete visto possiamo dire che l'Atalanta ha giocato veramente bene sbagliando veramente poco e mostrando anche un entusiasmo nelle immagini si vedevano i giocatori anche sull'1-0 molto consolari, molto sorridenti, molto compatti che era un po' di partite che non vedevamo. Un'altra cosa che va detta è che il risultato è sì grazie alle nostre capacità ma anche grazie alle capacità del Verona che decida a differenza di quasi tutte le squadre che lottano per salvarsi decida di affrontare l'Atalanta a viso aperto schierando un 4-3-3 molto molto offensivo con i terzini di spinta, col pressing molto alto. Questo ha un po' diciamo segnato il destino del Verona che non avendo a disposizione centrocampiste in grado di fare un fraseggio particolarmente vivace spesso volentieri perdeva palla a centrocampo e la ripartenza la metteva ai giocatori dell'Atalanta in superiorità numerica o a parità numerica ma in quel caso appunto la qualità tecnica dei nostri giocatori sul cassavo alla linea del Verona. Per quanto riguarda comunque complementi al Verona e a Mister Pecchia perché preferisco cento volte perdere ma giocare a pallone piuttosto che tentare un pareggio chiudendomi e magari senza arrivare mai in porta. Sulle prestazioni dei giocatori è evidente che non possiamo non citare Ilicic che oggi è veramente stato perfetto è stato veramente veramente perfetto ed è un giocatore che se è in forma, se è in giornata è decisamente fuori dalla portata dell'Atalanta cioè è veramente un giocatore che dobbiamo custodire gelosamente così come mi è piaciuta molto la prestazione del Papu che ha fatto di tutto per segnare poi ha preso un pallo, gli hanno annullato un gol e alla fine è riuscito a segnare di tapina ma va bene comunque nel senso lo abbiamo visto spegnersi, puntare la porta cercare la giocata, fare gli appoggi quindi non è sicuramente una prestazione insufficiente così come è stata una buonissima prestazione quella di Petagna che non ha segnato ma con le sue spolle è stato determinante. Altro giocatore che va assolutamente menzionato è Spinazzola che oggi veramente oggi, le ultime prestazioni insomma lo hanno riportato a quello che era l'anno scorso quindi probabilmente al recupero dall'infortunio poi un po' di tranquillità in testa e tutto quello che serve di fatto ci stanno dando per il finale di stagione un giocatore assolutamente pronto e motivato che è veramente, veramente, veramente un colpo di fortuna. Per quanto riguarda la corsa all'Europa League perché poi vediamoci chiaro quello che ci interessa devo dire che le cose non sono messe male anzi perché la Sonnore prende nove gol in due partite 11-12 gol nelle ultime quattro nelle ultime quattro partite fa solo tre punti quindi ha un segnale un po' di crisi poi io ho visto la partita della Sonnore con l'Inter devo dire che al di là dello strapotere dell'Inter la Sonnore ha avuto veramente problemi fisici di fiato, di corsa, di idee quindi noi siamo stati veramente bravi a approfittare di queste due defiant della Sonnore per recuperargli sei punti e quindi insomma adesso dopo la pausa prenderemo l'Udinese e poi la Sonnore quindi abbiamo tutto lo spazio per poterla superare noi al momento diciamo siamo in corsa loro sono in calo però purtroppo ci sono queste pause che incidono sempre un po' sulle prestazioni speriamo invece noi di riuscire a mantenere la concentrazione io come al solito vi saluto scusate se il video non è lunghissimo però veramente non è che c'è tantissimo da commentare abbiamo fatto un'ottima partita ma non vedo osservazioni negative anzi forse l'unica critica che faccio ma non è una critica è che sul 5-0 forse si poteva evitare di aspettare il 43esimo per far entrare una riserva a giocare e magari dare dei minutaggio a giocatori che abbiamo bisogno di tenere carichi per il finale di stagione ma Gasperini lo sappiamo non è uno che la pensa così quindi a un certo punto ci accontentiamo perché mai più ci mettiamo sul 5-0 a fare delle critiche io come al solito veramente vi saluto vi ringrazio per i video per le condivisioni per i commenti anche su Instagram vedo che qualcuno inizia insomma ecco mi fa sempre piacere leggerò volentieri quello che scrivete quello che rispondete continuate a guardare i miei video e andare sul sito appunto di Atalantini per restare informati e noi ci vediamo alla prossima ciao